La regione Puglia con una cerimonia celebrata stamattina nella sala conferenze dell'assessorato alle risorse agroalimentari di Lungomare Nazario Sauro ha consegnato 94 ettari di diritti di impianto a titolo gratuito ai giovani agricoltori pugliesi. Tutti i beneficiari dei terreni avranno così la possibilità di realizzare vigneti per la produzione di vino a denominazione d'origine protetta per dare continuità alla tradizione viticola pugliese che seppur in grande fermento e in crescita ha sempre più bisogno di nuove energie, di innovazione e modernità. Abbiamo avuto la possibilità di mettere sul mercato i diritti di riempianti a riserva che da tempo erano depositati presso gli uffici di questa regione e poi siamo stati anche autorizzati a poter cedere questi 100 ettari in forma gratuita nei confronti dei giovani agricoltori. La cosa interessante è che il 50% dei giovani è rappresentato dal sesso femminile quindi sta a significare che avremo più contadine che contadini a parte la battuta e c'è grande interesse da parte del giovane ma anche da parte delle donne ad intraprendere questo settore che comincia a dare una economia importante per la nostra regione. Una grande opportunità soprattutto ci dà la conferma che la regione avvicina i giovani agricoltori. Adesso con questo titolo che ho ricevuto ho detto che impianteremo un nuovo vigneto nella zona nostra, sono di Ruvo di Poglia e quindi abbiamo intenzione di impiantare le nuove varietà di uva con la speranza che il nostro prodotto, grazie all'aiuto di tutta la regione, un po' dell'assessore, venga valutato perché attualmente il mercato dell'uva è a terra. Quindi abbiamo questa intenzione con le varietà nuove, nuove tecniche, nuovi miglioramenti per cercare di incrementare la produzione e anche la qualità.